Scratch vi è offerta da Selle SMP Gentile pubblico di Scratch, ben trovati per questa settimana Intanto saluto Ilenia Lazzaro, che c'è da trovarci Tutto bene Ilenia? Sì, sono tornata da mie vacanze romane Vacanze romane, dove sei stata? L'abbiamo anche lavorato Dai, dove sei stata? Siamo stati a Roma per questa bella convention, non so che l'hai detto Abbiamo fatto un'ora e venti di interviste, quindi penso ci sarà un bel montaggio Ho detto anche che era un modo diverso, ho usato la metafora di The Vampire Diaries Per dire com'è bello dove ci si ritrova tante persone Che comunicano e insomma hanno rispetto l'una dell'altra Approfitto per questa cosa qua, per dire Bisognerebbe sempre aver rispetto Noi oggi abbiamo rispetto della Serena Gazzini Che ha avuto un problema in una gran fondo Mi piacerebbe anche capire come mai succedono queste cose Mi piacerebbe anche, senza pregiudiziali Capire se una gran fondo debba funzionare con i codici Che i ciclisti hanno la responsabilità di quello che gli accade Oppure ci debba essere comunque un controllo molto più serrato Mi piacerebbe fare delle domande agli organizzatori Che comunque accolgono migliaia di persone E soprattutto migliaia di persone da condurle Perché è una giornata di agonismo Fino alla fine della gara in tranquillità Mi piacerebbe anche cercare di capire, cara Elenia Che le gran fondo sono una buona cosa per una struttura Che vuole far fare dello sport Ma diventano anche poca cosa quando succedono degli incidenti Esatto, anche a me piacerebbe capire se appunto oramai Conta di più il pacogaro, la visibilità o la sicurezza delle persone Noi abbiamo visto San Magazzini Stanno andando avanti le immagini di ieri Perché l'abbiamo dedicata a lei questa bella pedalata Era prima in classifica in quel momento Quindi maggiormente bisognava tener conto Che di solito si controllano chi è in fuga Quindi non era la settecentesima Esatto, tra l'altro Apro e chiudo una parentesi Visto che è anche una mia compagna di squadra Non è l'ultima arrivata Ha fatto l'elite Ha fatto tanti anni nazionale Quindi sta ad andare in bicicletta Quindi non voglio sentire che c'è stato questo incidente Perché non sta ad andare in bicicletta È una ragazza che sta ad andare molto bene in bicicletta Molto meglio di tanti altri uomini In questo caso invece era proprio un problema di sicurezza stradale Ma si amplifica un altro discorso E' quello che lei è andata contro Un ciclista che tornava a ritroso rispetto al senso di marcia della gara Noi tante volte abbiamo detto A coloro che non sono ciclisti Gli automobilisti Educarli sul fatto dell'inizio gara Fine gara C'è un altro ciclista che va contro Una ciclista agonista Che in quel momento sta cercando di fare la sua gara Perché giustamente Oltre ad aver pagato la quota E giustamente vuole anche vincerla E' un ciclista che non si cura del passaggio dei ciclisti Esatto Beffa la beffa Beffa la beffa Da fare una riflessione ancora più grande Perché comunque Quando poi senti queste cose Che sono successe anche un mese fa Con Sandra Sella Che so che ci guarda Faccio in bocca al lupo Perché finalmente è uscita dall'ospedale Insomma Un ciclista amatore Il lunedì va a lavorare Serena ha anche una famiglia Ha una bambina piccola Di un anno e mezzo E un altro bambino Quindi Molto spesso Appello a organizzatori Motociclisti Automobilisti E anche ai ciclisti Sappiate che dietro Ha una persona che sta correndo C'è una vita che voi non conoscete Quindi Perché andare a rovinare qualcosa Far sì che una persona si faccia del male Ma vince sempre il buon padre di famiglia Io mi devo prendere cura Quindi fuori da discussioni Noi stiamo cercando di dare un contributo Alle Gran Fondo Infatti con Zappacenere Proprio adesso abbiamo stilato Un'intesa Nel senso Che metteremo in onda Soltanto alle Gran Fondo Che abbiano Un ranking abbastanza elevato Perché se no alla fine Vuoi per meri interessi economici Dobbiamo mettere tutto A noi non ce ne frega proprio nulla Vogliamo soltanto Che le gare che mettiamo in onda Possano essere state Un divertimento per coloro Che hanno partecipato E possono essere Un bel divertimento Per coloro che le seguono E quindi crediamo che questo Sia un servizio Assolutamente imprescindibile Da quello che è la nostra trasmissione Insomma Basta gli interessi Basta dire organizzazioni perfette Quando le organizzazioni perfette non sono Io spero Che qualcuno faccia chiarezza Su quello che è avvenuto ad Asiago Punto Perché poi alla fine La responsabilità è sempre degli altri Come spesso succede Alla fine ci rimettono Sempre solo i corridori Esatto Chiusa la cappelletta Va bene? Esatto Ok Oggi parliamo di belle gare Dosson di Casier Diamo il contributo A Vettorello Che è stato molto carino Nei nostri confronti Con il trofeo Came E poi parliamo di ragazze Anche nel pallone Esatto Parliamo di ragazze nel pallone Visto che appunto Da domani venerdì Fino a domenica Ci sarà questo importante evento A Padova Che quest'anno Veramente ha fatto Sold out Quindi numeri Sold out Cioè iscrizioni Massime Quindi Elisabetta Cosa vuoi sold out? Non c'è più spazio Non c'è più spazio Dopo questo contributo Lo lanciamo Va bene Dopo questo contributo Cominciamo a parlare Di ragazze nel pallone Via la clip intanto Immagini che ci giungono Da Dosson di Casier Per il secondo trofeo Came E quindi Memorial Renata Vettorello Gara in doppia mandata Dove vedremo Protagoniste Le categorie Esordienti Donne E allieve Donne Ora è la punzonatura Tutta quanta La riunione tecnica La presentazione Delle squadre Esordienti Dal conscio Pedale del Silo Del Silo E che oltre ad avere Delle Delle Atlete E anche la società Che organizza Questo evento Grazie a Vettorello Per aver voluto Le telecamere Di screcia E a noi Darci l'opportunità Di raccontare Comunque Una bella giornata Di festa Indipendentemente Dei tracciati Indipendentemente Dallo spirito sportivo A noi interessa Che ci siano società Serie, sane Competenti Che spendano Del loro tempo E il loro tempo Proprio a favore Di questi atleti Intanto vediamo I saluti Della Faoro E non soltanto Di tante ragazze Che si stanno Prodigando In questi primi Chilometri di gara Un circuito Da ripetersi Più volte Interamente pianeggiante Abbiamo detto Il pedale del Silo E' una tra le partecipanti Abbiamo Il Villongo Il Bibione A botto Li generali store L'industria Il Forniture Moro Poi abbiamo Il team Willier Breganzi Intanto auguri Per la bella vittoria Di Sofia Begin E quindi Anche lei Ci ha fatto brillare Gli occhi Ai campionati italiani E quindi Insomma Il movimento femminile Lo abbiamo detto In diverse occasioni Ribalta tutte le situazioni Le incongruenze E anche Le incompatibilità Diciamo così Di podio Loro ci sono sempre Riescono a far Veramente sempre bene E noi dobbiamo Comunque porre Molta più attenzione Di quello che facciamo oggi Perché il ciclismo femminile È veramente diventato Qualcosa di importante Spendibile E soprattutto Anche Bello da vedere Pedalate che ci giungono E vanno sulla zona Industriale Ricordiamo Siamo a Dosson Di Casier Questa è la prima gara Tutto il gruppo È compatto Chiaramente Anche qua Un po' copia in colla E questo Devo tirare Le orecchie Anche alle atlete Non c'è mai Nessuno Che vuole prendersi La briga O anche l'onere Di far Movimentare la gara Ci sta Tentando Katia Cremasco Del conscio Pedale Densile Però chiaramente Tra il tracciato Completamente pianeggiante Difficile è Andare via in fuga Almeno che non ci siano 4-5 concorrenti Che si mettano d'accordo Danno una trenata Di quelle giuste E inevitabilmente Allora potrebbe esserci Anche la fuga di giornata Belle le immagini Di Gianni Dalsanto Come al solito Ricche Veramente di pathos E di emozione Ed è giusto Che sia così Perché l'emozione Che ci danno Le ragazze I ragazzi in bicicletta Sono Valicano veramente Tutte le altre emozioni Delle grandi gare O delle gare Più altisonanti Altisonante È la volata A ranghi compatti Ranghi compatti Dove vedono Tutte quasi Le interpreti Principali Che abbiamo visto Fino adesso Andiamo subito A vedere Chi è che se l'ha Vince questa volata Ed è Alessio Camilla Del consiglio Pedale del Sile Zanotto Elisabetta Al secondo posto Giorgione Eliseo Gruppe Crestanello Lara Al terzo Seguono Micheletto Vanessa Ruggeri Lara Faoro Emma Pozzo Bomber L'attrice Bonetti Giorgia Folati Irene E Zaninelli Veronica Adesso le interviste Camilla Alessio Con scio Pedale del Sile Ha vinto la gara Delle donne esordienti Non è mai facile Vincere in casa E tu ce l'hai fatta Sei contenta? Eh beh sì Sì certo Insomma Tutti i parenti Amici Qui Insomma Raccontaci come è andata la gara Essenzialmente quasi sempre Gruppo Compatto Sì però Insomma le mie compagnie di squadra Hanno fatto qualche fuga Però diciamo che è stata un po' sfortuna Un po' fatico Non so E le hanno riprese Grazie a Moreno Martini Per le interviste Che ha rilasciato Che ha preso Con la protagonista Della gara precedente Della categoria esordienti E tutto è pronto Per la partenza Della gara Allieve Sempre per il secondo Trofeo Came Memorial Renata Vettorello Molte sono le squadre Abbiamo detto Dal conscio Che oltre Ad avere Due Atleti La Mattiuzzi Sciano E Vettorella A Giorgia Ha anche l'onere Dell'organizzazione Intanto un bel primo piano Di Cruzzolin E Jessica Dell'industria Forniture Moro Viotto Vediamo anche la 42 Con questo splendido sorriso E Valentina Mariotto Della Top Girl Fassa Bortolo Ancora Piccole scaramucce Da parte di Mattiuzzi Sciaro Anche lei Del pedale Del Sile La quale Insomma In qualche maniera Vuol farsi vedere Anche dalle telecamere Ed è giusto Che sia così E' giusto anche Cercare di inneggiare Al sacrificio Che fanno queste atlete E anche dagli accompagnatori Alle società Che comunque si muovono E io dico sempre Che organizzare una gara Di ciclismo Non è come organizzare Un evento O una partita di calcio Qua bisogna ogni volta Allestire il terreno Di gara E per cui vuol dire Tanto sforzo Non soltanto economico Ma anche Fisico E morale Da parte Degli organizzatori E dei presidenti Di società Quindi Sempre un Plauso A tutti coloro Che in qualche maniera Spendono del loro tempo Per poter garantire Che avvenimenti Accadimenti Eventi Di questo genere Possano andare in onda E noi ben volentieri Li documentiamo Tutto il gruppo È compatto Abbiamo visto Una ragazza Della vecchia Fontana Lì davanti Che non fa Passare nessuno Si tratta di Paternoster Letizia Lei campionessa italiana Anche su pista Quindi una ragazza Che della multidisciplinarità Tra strada e pista La s'allunga E fa molto bene Continuiamo a dire Che fa bene Sempre la pista Comunque la pista E speriamo sempre Di vedere Più pista possibile In tutte le organizzazioni Noi quest'anno Ne abbiamo ripreso Soltanto uno Perché comunque Il calendario È anche piuttosto Diciamo così Non tanto Non tanto ampio Non di tante gare Però la pista Secondo noi È fondamentale Per poter dare Anche quel taglio Quell'occhio Specie a quest'età Dove si è delle spugne E si impara tantissimo Dalle categorie Esordienti e allievi Potrebbero essere Anzi sarebbero utili Proprio poi dopo Nei momenti cruciali Dove l'attività L'agonismo Nelle fasi ultime Diventa più cruente Diventa più pericolosa Quindi un bagaglio Di esperienza Della pista Potrebbe essere Di Diciamo così Maggior fruizione Da parte delle atlete Bella questa panoramica Di Gianni Dalsanto Il nostro operatore Che era proprio Dosson di Casier Che ci fa vedere Esattamente L'insieme della gara Con questi scatti E contro scatti Vediamo un atleta Della Giorgione Seguita comunque Dall'atleta Della vecchia Fontana Cercare di dare ritmo Nulla di fatto Il circuito È talmente pianeggiante Che chiaramente Difficilmente Porterà A delle sorprese La sorpresa sarà Comunque L'atto finale Molto probabilmente Un atto conclusivo A volata certa Ranghi compatti Con quelle che sono Più deputate A giocarsela In volata Quindi sicuramente Letizia Paternostra Zanini D'Aglia Anche Vettorello Giorgia Se la può giocare Con la Giorgia Bariani Che la vediamo Già da lontano Giorgia Bariani Quasi a far sportellate Una lunga volata Di oltre 200 metri E non si fa intimorire Neanche Dal rintuzzare De lei proprio Giorgia Bariani Del Luc Bovolone Che tiene fino alla fine Vince Su Letizia Paternostra Vecchia Fontana Dalila Zanini Della ciclistica Dillettantistica Valvasone Zanin Carlotta Della Willier Breganze Patusso Anais Milagros Vettorello Giorgia Al sesto Seguono Menin Fattori Toffanin E Chinelli Adesso le interviste Grazie a Moreno Per averci dato Una mano d'aiuto Anche questa volta A Scratch Giorgio Beriani Sappiamo che non ti piacciono Le interviste Però ti piace molto Dare del tuo Alla vittoria E quest'anno mancava Fino ad oggi Sì Ho fatto molti piazzamenti Aspettavo la vittoria E insomma È arrivata Una dedica speciale Per la prima vittoria Stagionale Allora voglio dedicare A Gaia Suave Che domani Campi gli anni Alla famiglia E alla squadra Insomma È un bel gruppo Giusto? Sì Bel gruppo Insomma Il voglio bene Le dico a tutti Ben rientrati in studio Amici di Scratch E soprattutto appassionati Di ciclismo E non solo di sport Oggi diamo una Piccola finestra Ma fatta con il cuore Le ragazze Nel pallone Tanto qua abbiamo Elisabetta Toresin Abbiamo Michela Tommasini Emanuele Tartaggia Sono coloro che hanno Realizzato questo bel evento Dove in sé Continuo a ripetermi Per l'ennesima volta Raccoglie tante persone E fa in modo Che queste persone Insomma Si riconoscano Si conoscano Tante etnie diverse Addirittura Un'Europa intera Che non è basata Sull'economia Ma per fortuna È basata su quelli Che sono i veri valori E principi Della nostra carta Costituente europea Su quelli che sono I valori morali Quindi Intanto parliamo di questa Voi a Padova Tra venerdì Sabato e domenica Portate la vera Europa Sì Quest'anno Sarà la novità Per ragazze nel pallone È sempre stato Il torneo più grande In Italia Di calcio a sei Quest'anno Tra le tante novità Abbiamo deciso Di aprirci all'Europa Qualcuno si chiude Noi ci apriamo In controtendenza E avremo squadre Da tutta Europa E anche moltissimi atleti Singole Che si sono organizzate E hanno partecipato A squadre già costruite Perché volevano essere Il nostro torneo Ed è un torneo Un torneo A ciclo continuo Insomma Riuscite Tre giorni Sì Toglieremo anche la pausa pranzo Nel senso Che ovviamente Potranno mangiare Però non generalmente Avendo 52 squadre Almeno come era l'anno scorso Lasciavamo un'ora Un'ora e mezza Per poter mangiare Riposarsi Lavarsi Insomma Rilassarsi un attimo E come funziona L'ambaradana Perché ognuno Verrà con i suoi Più di azzebi Da noi Nel nostro torneo Le atlete Dormono Nello spazio Dove si gioca Non nel campo Ovviamente Ma in un campo Adeguato Dove appunto Soggiornano E si riposano Con la tenda Con la tenda Perché rimangono In pratica Tre giorni Tre giorni Sì No Due notti In realtà Per cui Venerdì notte Ci sarà un altro Tipo di manifestazione Sarà i fuochetti A noi No Beh I fuochetti No Concerti Nel senso No Ci sono concerti C'è un intrattenimento C'è anche del teatro Comico Quest'anno Vogliamo sempre Stupire Mi piace di fuochetti Beh Quelli Sai Seguono Uno spazio Comunale Non è Per caso Cerchiamo di non fare cose Pericolose E anche Insomma Ci teniamo All'incolumità Delle nostre atlete Visto appunto Quello che succede Ad altre organizzazioni Noi cerchiamo Di invece E poi si sa Che non si può Sempre Tenere sotto controllo Tutto Intanto Perché vi mettete A fare una manifestazione Del genere Quando poi Il calcio femminile È stato punito In una maniera esagerata Perché siamo pazze Cioè non c'era Altra spiegazione E siamo delle passionarie Anche giochi Prossimo Gioia palleggi No Io Sono una giocatrice Dell'ultima ora Nel senso Mi diverte Gioco così In maniera amatoriale Ma non Le organizzatrici Non possono più partecipare Non c'è più tempo Perché è talmente complesso È talmente grande Questo torneo Che una volta Lo si faceva Quando c'erano 16 squadre Si partecipava Ora è improponibile Ora bisogna avere la testa Ci sono dei professionisti Che gioca Lo mettiamo In Brasile Non parliamo Di social In America Negli USA È più popolare Quasi del calcio maschile Ah beh C'è assolutamente Il calcio femminile In America È più famoso Di quello maschile Si hanno fatto Un'opera esagerata In tanti anni Hanno anche Messo soldini Ci sono anche I campus Che ragionano Veri e propri star Insomma star In realtà Nel calcio femminile Ma anche in Europa Adesso si sono da poco Giocati i mondiali C'erano parecchie europee Anche alto livello La Lituania Perché per esempio La Lituania Gioca come dei fenomeni In Italia In Italia È dura Ma perché Vige il fatto Tu donna a casa Preparare da mangiare Non siamo a questi livelli Però devo dire Che per alcune Alcune persone Purtroppo Ad alti livelli Dirigenziali Questa è un po' La mentalità Non dico Donna torna al focolare Però sicuramente È un disvalore Quando si tratta Di parlare di femminile Quello sì Bene Noi siamo contenti Perché ogni tanto Mettere la testa fuori E vedere nei cortili degli altri Fa bene anche al ciclismo Noi parliamo tante volte In maniera negativa Nel ciclismo Ilenia Però nel ciclismo Sì ci sono i problemi Ci sono quelli Che dicono Che un atleta Che fa bicicletta C'ha il culo largo Che non è vero niente Ne ho senti tante Di queste frasi Però c'è una tendenza Diversa Diciamo che negli ultimi anni Si sta un po' Anche perché Negli ultimi anni Baracche, burattine I mondiali E le olimpiadi Hanno salvato sempre le donne Questa è la Diciamo C'è una tendenza Su tanti sport C'è È vero E questo è un Per ben controsensio Però in Italia Abbiamo una Sofia Beijing Che sta facendo brillare gli occhi Abbiamo anche Nibali Che ha fatto grandi cose Però insomma Abbiamo Sofia Beijing Abbiamo Elena Cecchini Che sono riconfermate I tricolori La Cecchini E la Beijing Che dopo il ciclocross Ha fatto anche Questo bel tricolore Su strada Quindi insomma È stato un bel weekend È stato anche un bel weekend Perché c'è stato il mondiale Marathon Siccome fa caldo Andiamo in Val Gardena Andiamo in Val Gardena Con le immagini Della Sella Ronda Iro Campionato mondiale Marathon Commentate dalla sottoscritta Che è andata due giorni In montagna A prendere fresco Io ho il caldo Però screcci Insomma Anche cari mondiali Via la clip Immagini da Selva Val Gardena Dove oggi vi raccontiamo La Sella Ronda Iro Ovvero Il campionato mondiale Di mountain bike Sulla distanza Marathon In sorriso Un po' tirato Misto a concentrazione Di Elena Gaddoni Per la partenza Della gara Donne Elite 60 km di corsa 3.400 metri Di dislivello Via Le migliori rappresentanti Della disciplina E non solo Anche Gun Rita D'Ale Un nome Una garanzia Quando si parla Di ruote grasse Anche Gli uomini Sono al via Per il campionato Del mondo Per loro 87 km 4.700 metri Di dislivello Con Gardena Campolongo Pordoi Sella E duron E duron Da scalare Questa serpentina Lui Lui Ottimo protagonista Di gara E la nostra Grande professionista Ha detto Ha detto Che correrà Ha detto che Per qualche anno Quindi insomma La norvegese Ci farà brillare gli occhi Ancora Per qualche Altro anno Veramente Dei paesaggi Dei paesaggi splendidi Dolomiti Oggi hanno fatto Da padrone Questa manifestazione Che appunto È scelta Ogni anno Da tantissimi amatori Quest'anno Quasi 4.500 Gli iscritti Con 50 nazioni Rappresentate Scelta degli amatori Perché per quanto Sia dura Come gara Una delle più dure In Europa È sicuramente Una gara Molto Molto Spettacolare La più giovane Anitta Langvard Cerca Di Andare A reacciuffare Gunn Ritadale Che però Ha un margine Già abbastanza Rassicurante Fin dalle prime Tornate Quindi Nella prima parte Di corsa È andato A crescere Il margine Di Gunn Ritadale Ester Sus La vediamo Con Sabine Spitz Poi A inseguire E appunto Abbiamo detto Una Daniela Veronesi Che lì Quattacquatta Sta risalendo Posizione Si sta Testando Attorno Alla decima Posizione La salita Tecnica Questi bellissimi Prati E questo Questa Cresta Lungo Appunto Il Dante Ercepis Che Esaltano Le bellezze Di questa Vale La Val Gardena Appunto Ampiamente Valorizzata Da Gerard Vanzi E da tutto Lo staff Di Sella Ronda Iro Dicevamo Appunto Che Quest'anno Si corre Qui Il campionato Del mondo Ricordiamo Che Oltre Il campionato Del mondo In Italia Si è corsa Anche Una prova Di Marathon Series Ovvero La Coppa Del mondo E stiamo Parlando Appunto Della T-Liment Marathon Bike Che siamo Andati Appunto A Raccontare Noi con le telecamere Di scratch Qualche tempo Fa Mentre Li vediamo I primi uomini Che vanno A riacciuffare Il gruppo Delle donne Partite Prima Nel Nel frangente Era Christophe Souser Che sta cercando Di andare A prendere Alba La Cata Dietro Appunto Paez Ipericlisse Elias Ferraro Kaufman Stanno Cercando Inec Stanno cercando Di andare A riacciuffare Appunto L'austriaco Austriaco Che Già Ai microfoni Alla T-Liment Marathon Bike Ci aveva Fatto Presagire Ottime Cose Per questa Parte Importante Della stagione Mondiale Mondiale Che è sempre Diciamo Un appuntamento Importante Gunn Rittadale Nel frattempo Sempre più Leader Bellissima Anche la scelta Quest'anno Degli organizzatori Di avere Un cameraman In bike Non a caso Hanno scelto Un campione Del calibro Di Mirko Celestino Perché Penso che Se avessero scelto Il legna Lazzaro Lagun Rittadale L'avrebbe persa Già da un pezzo Quindi hanno scelto Un biker Come Mirko Celestino Per seguire Nei frangenti Di corsa Topici Le atlete E gli atleti Ricordiamo Il folto pubblico Che è rimasto A Selva Valgardena Con il maxischermo Gurritadale Ha anche Tempo Per farci Appunto Il segno Di Va tutto bene Annika Lagward Lei Molto più giovane Quasi dieci anni Di differenza In questo momento In seconda posizione In terza posizione Si gioca Il terzo Gardino Del podio La tedesca Sabine Spitz Anche lei Insomma Diciamo Una Non più di primo pelo Insomma Un'atleta Matura E la svizzera Ariane Kleinans Mentre Una delle Pronosticate Di vigilia Ovvero Selly Bigham Che vinse Questa Sella Ronda Hero Qualche anno fa In questo momento Si attesta Con un po' Di ritardo Attorno alla quinta Posizione Leo Paez Bellissima Questa immagine La fatica Nel suo volto Ma la determinazione Per un podio Che appunto Si gioca Assieme a Elias Periklis Mentre Alban Lacata Con un filo di gas In discesa Molto molto sereno Lo vediamo anche Molto concentrato Scende Senza nessun Tipo di problema L'austriaco Che appunto Ha scelto Questa gara Anche lui Come ultima gara Per prima di chiudere La carriera Da professionista Andremo a vedere E capire Nel proseguo Della stagione Se questo Probabile mondiale Perché appunto Andiamo a raccontare Ormai Le ultime Gli ultimi Kilometri di corsa Se questo Probabile mondiale Andrà a cambiare Non lo so Magari l'idea Di Lakata Di lasciare Le corse Alban Lakata Che appunto Negli anni Ha vinto Anche lui Titoli europei Ha vinto Gara di coppa Del mondo Intanto vediamo Elias Periklis E Leonardo Paez Che stanno Cercando Di andare a Riacciuffare Christophe Christophe Sosser Mentre Quella qua Gunn Ritadale Scende Senza Nessun Tipo Di problema Ormai Siamo veramente Vicino All'arrivo Ed è Gunn Ritadale Flesch Alla norvegese Che va A vincere Questa Sella ronda Hero Juara Hero Appunto Sei Un Un eroe Gunn Ritadale Va a vincere Anche il campionato Del mondo E porta La Norvegia Appunto A Nel Nel gradino Più alto Del podio Attendiamo Poi Per vedere Chi sarà La seconda La seconda Al traguardo Gunn Ritadale Tre ore Trenta Quattro E tredici Seconda Anika Langvard La danese Tre ore Trentasette E trentuno Mentre In terza Posizione Sabine Spizza Tre ore Quarantatré E quarantatré Alban Lakata Eccolo qui Che va a scendere Con Netto Margine Di vantaggio Sui pronostici Alban Lakata Eccolo qua E' campione Del mondo Grandissima Prova La sua In Quattro ore Ventiquattro E quarantasei Austria In Cima al mondo Lakata Campione Del mondo Marathon In Seconda Posizione Andiamo Ad attendere Si doveva Attendere Quasi Due minuti E mezzo E mezzo Intanto La cata Baccia La bici E vediamo Il folto pubblico I fotografi Che sono a corsi Per raccontare Questo evento Internazionale Seconda posizione Per Christophe Sausser Quattro ore 26 e 53 Lo svizzero Mentre in terza posizione E alla fine La spunta Leonardo Paez Quattro 27 01 Poglio Donne Gunrita Dale Flescia Con Annika Langvard E Sabine Spitz Ricordiamo Ottimo Decimo posto Per Daniela Veronesi Mentre Renato Di Rocco Va a premiare La campionessa Del mondo Gunrita Dale Flescia Eccola qui La norvegese Che si va Appunto A laureare Campionessa Mondiale Dietro Langvard Sabine Spitz Negli uomini Invece Alban Lakata Abbiamo detto Campione del mondo Christoph Souser Lo svizzero In seconda posizione Terzo Leonardo Paez Quindi Pericles In quarta posizione Quinto Ottimo Damiano Ferraro Settimo Samuele Porro Buonasera Parliamo Parliamo oggi Di alimentazione Che da sempre Necessita di grande attenzione Soprattutto da chi desidera Ottenere prestazioni massimali Negli ultimi anni Si parla però di nutrizione Poiché è necessario Rifornire l'organismo Di tutti i macronutrienti Le regole basilari Sono semplici Partire sempre Con una buona colazione Introdurre a pranzo E a cena Sia proteine Che carboidrati Abbondando Le verdure di stagione Senza scordarsi Di effettuare Gli spuntini L'apporto percentuale Di macronutrienti Varia Tra il secondo Le necessità Del periodo Idealmente Se siamo in allenamento Introdurremo Circa Un 55% Di carboidrati Un 25% Di grassi E un 20% Di proteine Nella fase Di gara Aumenteremo invece La dose di carboidrati Arrivando Fino A un 70% Al discapito Delle proteine Che diventano però fondamentali Nella fase di recupero Mi preme sottolineare Che la corretta alimentazione E idratazione Sono di fondamentale importanza Anche durante lo svolgimento Di una gara Per rifornire i muscoli Sempre di nuova energia Una buona serata E grazie A presto A presto Grazie a tutti. 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 Giornalisti da tutta Italia sono accorsi a Servigliano per disputare la cinquantacinquesima edizione del Campionato Italiano della Categoria. I giornalisti ciclisti rappresentavano le regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lazio, Abruzzo, Lombardia, Toscana e Umbria. La gara avversata dal maltempo è stata disputata su percorso modificato e accorciato ma ugualmente selettivo con partenza da Servigliano e arrivo a Belmonte Piceno. È avvenuta la partenza ed è subito Enrico Giancarli a portarsi in testa, rappresenta Sky, normalmente un portacolori della formazione amatoriale studio moda. Alla sua ruota il toscano, anche lui molto attivo, mentre attenzione le nostre telecamere vanno a cogliere il terzetto al comando Enrico Giancarli di Sky insieme a Leonardo Olmi, giornalista freelance e al russo Sergei Kordyukov, russo veloce. Sono questi i tre uomini al comando, stiamo salendo verso Belmonte Piceno e hanno impresso il loro ritmo. Andiamo con le immagini, la nostra telecamera intanto sta risalendo il gruppo. Abbiamo detto diverse firme del mondo del giornalismo, tra cui troviamo Finco del Sky TV, Andrea Manusia. L'abbiamo visto inquadrato in questo momento, Andrea Manusia è stato uno dei promotori del campionato italiano di giornalismo in terra marchigiana. Andrea Manusia del nuovo quotidiano di Rimini, anche lui molto attivo soprattutto per quel che riguarda il ciclismo. Ora andiamo su Antonio Finco, Sky TV, ex campione italiano, in quanto in questa 55esima edizione ha dovuto riporre la maglia conquistata lo scorso anno. Ora sta lottando per la conquista dell'ennesimo tricolore. Ancora torniamo sul terzetto, costituito da Leonardo Olmi, freelance della categoria pubblicisti veterani, insieme ad Enrico Giancarli di Sky, professionisti veterani. Anche lui invece per quel che riguarda la categoria ospiti, Sergei Kordyukov del Roosevelt, grand'opera di un altro giornalista, Ronchi per l'organizzazione, insieme a Mirko Marini, Roberto Ronchi dell'almanacco di motociclismo. Siamo in zona traguardo, Enrico Giancarli festeggia insieme al toscano Leonardo Olmi, per loro il successo tra i pubblicisti veterani. Leonardo Olmi conquista il tricolore, mentre Giancarli conquista il tricolore tra i professionisti veterani. Grazie a tutti. E' ben rientrati in studio amici di Scratch. Insomma, l'abbiamo messo a posto, perché quando mi hanno detto, prossimo anno c'è l'Ilenia? No, allora le mettiamo in onda, così tanto per gradire. Sei cattivissimo. So, lo so, lo so, è anche un po' invidioso. E' molto cattivo. Non posso sopportare una che va sempre a fare l'atleta in giro io, l'andare a sostituire. Tornerò anche io Vincente, Arginio. Sì, Vincenzo, io Vincenzo. Dove lo fate? Anzi, voglio che me lo dici tu, Michela. Allora, torniamo al Parco Raciti, alle Brentelle, in Via Pelosa, a Padova. E' un parco comunale, quindi la manifestazione sarà anche aperta al pubblico, come lo è sempre stato. E vi aspettiamo numerosi, appunto, a vedere questa manifestazione. Quindi immagino che avete anche degli interpreti che parlano l'inglese, parlano il francese. Beh, in realtà le atlete e le organizzatrici comunque sono ragazze laureate, per la maggior parte, insomma, quindi... Cioè, cosa vuoi dire? Non sono buzziconi buoni da dentro? No, assolutamente. Poi c'è una dottoressa, ti spiattello una dottoressa io qua. Sì, perché non sai parlare una lingua fuori dall'italiano? No, io so tutte le lingue d'Italia, primo. Sì, infatti, sei in Varenza, il Pugliese. Tu, è bellogico, è normale, scusa, ho bisogno di tutti e per me, l'Italia è... Ognuno c'è, è international. Poi dopo l'inglese, lo so, e anche il francese, ando, trova, e one, two, three. Insomma, ognuno fa quello che può, però... È importante non farlo vedere in pubblico che non sai nascere, e poi do da da, do da, e poi fai brutta figure. Allora, in quante siete dell'organizzazione e quanta gente vi aspettate? Beh, noi abbiamo circa un migliaio di atleti tra una cosa e l'altra, almeno altre 3, 4, 500 persone che, insomma, girano per il parco. Spenderanno due soldini queste persone che vanno su? A me o auguro. No, ma voglio dire, andranno a Padova a visitare il santo. Sì, ma io credo... Beh, non posso garantire, però questo torneo sta richiamando, non solo ricordo, un pubblico italiano, ma anche un pubblico straniero, perché poi le atlete con sé portano anche comunque altra gente. Posso aggiungere una cosa? Che nessuno te la dirà, ma tu dovrai sventolarla. Porti un pubblico educato che sa che tramite la pratica sportiva non vanno a fare cagate in giro, non si aprono alle notti bianche, che quasi sempre ci troviamo gli usci con dei ruscelli di piscio, scusatemi la volgarità, e quindi secondo me è un brand da caldeggiare e da dimostrare, perché è vero. Guarda, posso dirti che la nostra organizzazione, poi, ripeto, può accadere sempre di tutto, però noi sicuramente facciamo di tutto, perché questa organizzazione sia il più corretto possibile, e il più bella, cioè che la gente lo viva bene. Infatti poi però il risultato c'è, perché al di là del fatto che magari le istituzioni non ti finanziano, fatichi a trovare sponsor, comunque noi i risultati li abbiamo, i risultati sono le iscrizioni delle squadre che quest'anno sono cresciute, per quanto riguarda il calcio, di 12 squadre, quindi 64 squadre non esistono neanche in Europa, e in più si sta aprendo una cosa nuova, che stiamo diventando un torneo sempre più sportivo, meno, cioè sicuramente calcistico, perché questo è il nostro zoccolo duro, ma vogliamo comunque allargarci a tutti gli sport che hanno a che fare con la palla, quindi quest'anno sarà il pallacanestro, 16 squadre, e per noi che siamo partite con 16 squadre, pensiamo che sia un numero fortunato, e siamo sicuri che l'anno prossimo non ce ne saranno molte di più. Guarda Elisabetta, io credo che voi siete la parte sconosciuta della politica, miope e cieca, ma comunque sei la parte migliore dove tutti gli italiani, prima o dopo faranno conti, e cercheranno in voi quei modelli comportamentali che tanto a noi mancano, credo. Adesso io mi trasferirei ad Avellino, per una gara, giovanissimi ed esordienti, piccolini, ma tu vedrai queste immagini, vedrete queste immagini, quanta gente, quanti colori, una cosa straordinaria, la facciamo vedere volentieri, perché si parla di migliaia di persone, migliaia, guardate le immagini, io le ho viste, incredibili, avanti con questa clip. Il calore del sud, via la clip. Eh sì. A fare da preludio alla 64esima edizione della manifestazione ciclistica Coppa Montoro, l'evento Sport Amando, in ricordo di Carmine Cuomo, un giovane ragazzo, un giovane montorese, recentemente scomparso, l'esibizione di tutte le associazioni sportive del territorio che si sono esibite nella piazza principale di Montoro, tra queste anche la ASD Montoro 1927, la società sportiva che il giorno dopo avrebbe dato vita alla 64esima edizione della Coppa Montoro. La 64esima edizione della Coppa Montoro doveva essere una festa e così è stato. Nella mattinata di una calda domenica estiva, oltre 100 bambini appartenenti alla categoria giovanissimi, comprese tra i 7 e 12 anni, hanno dato vita a sei prove lungo il circuito di un chilometro, tracciato alle spalle della Villa Montorese. Tanto colore, tanta passione e determinazione per questi giovani ciclisti in erba, che per ora non sognano neanche un futuro tra i professionisti, ma si divertono in sella i loro piccoli cavalli d'acciaio. Mulinano rapporti molto corti fino allo sfinimento, ma quando scendono dalla propria bicicletta, il sorriso sul loro viso non manca mai. Per loro la bicicletta è un gioco e a Montoro si è giunta anche la festa. Il pomeriggio 72 ciclisti appartenenti alle categorie esordienti primo e secondo anno si sono sfidati lungo il percorso di gara, il tracciato cittadino voluto da Giovanni Romano e il presidente della società organizzatrice Mario Mari. Intanto vediamo le splendide immagini proposte dal drone, presenti due tecnici che hanno guidato il drone lungo il percorso di gara. Qui siamo in zona partenza con il drappello dei partecipanti. Sono 72 esordienti appartenenti alle categorie esordienti primo e secondo anno che si sfideranno nella prova unica, partenza unica per entrambe le categorie e valevole per l'assegnazione del titolo regionale di categoria Maglie della Montoro 1927 Tortora CM. La formazione voluta da patron Giovanni Romano con il presidente inquadrato in questo momento Mario Mari. Giovanni Romano e Mario Mari sono le due anime di questa realtà del ciclismo montorese che hanno voluto riportare l'attività giovanile al centro dell'attenzione di questa località. Vado ad abbassare la bandiera Scacchi per dare il via alla manifestazione molto vicina a questa prova anche l'assessore allo sport del comune di Montoro Luigi Toro, Carusso della Daniello Cycling Team. Lo vediamo inquadrato in questo momento, sta scandendo il ritmo del gruppo. Come vedete un gruppo molto allungato, abbiamo già detto ci sono diversi tentativi. Ora è la volta di Mattia Pomenti, dorsale 47 del Il Pirata Evolution. Si era già giudicato la splendida manifestazione di Sora, Mattia Pomenti. Lo vediamo impegnato in questo tentativo di allungo, la sua bicicletta una carriera. Intanto dal gruppo hanno allungato diversi ciclisti a caccia del Battistrada. E il gruppo infatti torna compatto. Molto attiva Francesca Pappalardo della Flessofab che guida un drappello di inseguitori, dunque si è portata in testa e sta guidando il gruppo degli inseguitori. Ci avviciniamo alle battute finali, dunque con i ciclisti al comando mentre le splendide immagini del drone ci portano dall'alto all'interno del gruppo dei partecipanti a questa settima edizione del Memorial aereo armirante inserita nel programma della 64esima edizione della Coppa Montoro. Una manifestazione che ha segnato la storia di questa realtà paesaggistica alle porte di Avellino, voluta dai dirigenti della ASD Montoro 1927, una società che è ritornata all'attività grazie a Giovanni Romano dopo una lunga assenza. Battute finali, l'ultimo giro, attenzione, c'è la caduta di Federica Pier Giovanni della Team Eurobike, niente di importante per lei, si è prontamente rialzata ed è risalita in bicicletta. Dicevamo gli ultimi metri per il battistrada, lanciato verso la conquista di questo successo come il gruppo che ha notevolmente ridotto il ritardo dal portacolori del team Balsano che comunque va sottolineato, è stato autore forse del miglior tentativo di fuga. Ormai siamo in zona traguardo e Mattia Pomenti che ha preso la testa della gara, lanciata la volata molto lunga, il portacolori della Il Pirate Evolution, già due successi in questa stagione, esce con autorità e va a conquistare il suo terzo successo mentre alle sue spalle il portacolori della formazione a Roma e Dolci, The Panthers, Salvatore e Barone esulta per la conquista del titolo regionale. Ma andiamo a leggere l'ordine di arrivo al primo posto Mattia Pomenti del Il Pirate Evolution, Salvatore e Barone della Roma e Dolci The Panthers, il nuovo campione regionale, Domenico Pomarico della Adria Bike, Gianmarco Pozzone della Il Pirate Evolution, Salvatore De Rosa della Roma e Dolci The Panthers. Per quel che riguarda la categoria esordiente primo anno, successo di Federico Cardone davanti a Luca Russo che è il nuovo campione regionale, Giuseppe Gabriele Di Dio, Marco Di Biagio, al quinto posto Alessio Mironti. Per quel che riguarda la prova femminile, successo conquistato da Francesca Pappalardo della Flesso Fab. Il bilancio di questa 64esima Coppa Montoro, che dire, penso che parlano i numeri, i numeri, che ancora una volta diamo grandi accoglienze alle persone, ritornano sempre con più piacere a Montoro ogni anno, quindi, e questa è la cosa che a noi fa piacere. Una bellissima manifestazione, ringrazio tutte le società che sono venute dal Lazio alla Calabria, con i giovanissimi soprattutto, è stata una partecipazione proprio grandissima, con 120 partenti, è stata una festa, del ciclismo, anche gli esordienti, il campionato regionale campano, primo e secondo anno, 70 partenti, anche il campionato esordienti, e beh, che dire, sono numeri che parlano da solo, quindi si vede il duro lavoro estenuante di tre mesi di lavoro per riuscire in una bella manifestazione, credo che sia stata una, scusate la presunzione, una delle più belle manifestazioni del Sud Italia. Bene, cari Nenia, siamo quasi nel rush finale dopo questa bella puntata, a me è piaciuta, a te no, a me è piaciuta, a me è piaciuta, poi dopo, sai cosa ti dico in realtà? Tanto questi bambini mi hanno revocato il pensiero di loro con le bubble bug, con le bubble stuff. Io devo andare a vedere questi qua, cioè non è inconcepibile per me, perché poi è vero che vanno i bambini, ma non è vero per niente, perché poi sono i papà che dicono, no, ma il bambino non ne frega niente, ma no, sa che no, è il papà che vuole andare. Io voglio vederli quei papà, io vengo là con le telecamere nascoste, e allora, dammi un'indicazione, domani sera partite col botto. Eh, partiamo col botto perché abbiamo quest'ospite, noi generalmente facciamo aprire il torneo da qualche VIP, però di quelli simpatici, l'anno scorso c'erano le donatelle che poi guarda a caso hanno vinto l'Isola dei Famosi, quindi abbiamo provato fortuna, e quest'anno abbiamo un simpaticone, un paciarone, siamo proprio contentissimi di averlo con noi, è più della nostra zona, è meno nazionale, però è conosciuto anche a livello nazionale, ed è Sira Oliver Scardi, l'ex cantante di Pittura Fresca, che insomma taglierà il nastro, e poi canterà anche i suoi pezzi famosi. Sì, non se lo ricorda, o in Demovedere, ripeto. Porta un po' di reg che ci è mancato, diciamo, non ci abbiamo mai pensato, abbiamo fatto il rock, abbiamo fatto tanto. È un reg evergreen che mi piaceva molto di più di quello di oggi, perché era sì di denuncia, ma era anche un po' scansonato. Sì, molto divertente. Bene, io intanto vi auguro veramente il mondo di bene da domani, tutti quanti, al Parco? Raciti, alle Brentelle, quindi tutti a Padova a guardare questa manifestazione. 3, 4, 5 luglio, Marco, Raciti, Braciti. Noi diamo l'appuntamento, settimana prossima ci staccheremo dallo studio, faremo una bellissima, diciamo così, puntata, on the road si dice, con Simone Fraccaro per quanto concerne la storica, gran fondo, però noi siamo là, ma non saremo certi ipocriti, perché se vediamo che anche là le cose non vanno, saremo i primi a dirlo. Attenzione, Argesi l'inquisitore. Siccome so che è in mani buone di gente molto seria e preparata, però bisogna sempre avere quel minimo o massimo di rispetto per chi va a gareggiare, perché io poi credo che il ciclo amatore che va a fare una gran fondo non sia più un atleta, per chi ha detto bene, e con questa frase abbiamo detto tutto. Grazie Ilenia, grazie Elisabetta, Michela ed Emanuel, se ti vedo con i bull e bug, cazzo ti denuncio, è il bubble soccer, che si danno a craniate e pensano, stanno bene con la testa, a settimana prossima. Ti faremo fare il calcio relico. Scratch vi è stata offerta da Selle SMP. Grazie a tutti.